Comunicazione, ho trovato una base al centro di Cabanino, ripeto, ho trovato una base al centro di Cabanino, richiesta squadra di supporto, passo e chiudo. Questo programma contiene linguaggio volgare, un po' di sofferenza e scene che alcune persone potrebbero trovare offensive. Ieri sera non c'era tutta questa lavora? Sì, molto così ha lavorato. Dov'è andare controllata? Ma avete visto anche quella costruzione nel bosco, sì. Allora, il porcino accanto è aperto. Ah, stanno proprio cosiddendo tutta la farm qui. Vedi qua, mi sta buttandolo. Secondo me è Enac, una sorta. Ma quasi quasi, dalla casa verde, riesco a spottare dentro. Giusto per evitare... Hai cambiato caricatore? No. Ho sentito caricare? Anch'io ho sentito caricare. Chi era? Quest'altro è chiuso. Questo me lo è. Anche questo è chiuso. Chi corre? È la madre. Io. C'è due, una tenda nera, tre barili. Io se vi serve ho un codelock dietro. Una macchina, due tende nere, tre barili e una macchina. Come hai fatto a vederlo? Eh, c'è una fessura da quest'altra parte. Ah, c'è una fessura. Ma, clear, se ti faccio... Ah, no, c'è a te, c'è... C'è il filo spinale. Il filo spinale. E qual è il problema? Ah, giusto. Bene. Giusto? Aspetta, aspetta, però. Mettiamo copertura. No. Però non ci fanno tutti e tre, raga. Uno, due, tre. E... Uno deve andargli sotto, però, perché se no non riesco a scavalchiare. Aspetta, arriva. Ma, fino a qua. Aspetta, aspetta, aspetta. Qui c'è un... C'è un coso? Ah, ma qui si demolisce. Ah, è da. Aspetta. Inoltre, siamo di fianco, eh? No. Ah, sì, io... Ditemi dove... Vi devo coprire, vi copro. Stare in tre lì a... Smili, Smili, salta. Oh, ma, demoni, devi saltar sopra. Sentite, se mi metto in quella casa verde lì, forse vi do la copertura migliore, sai? Oh, ma, demoni, devi saltar sopra. Sentite, se mi metto in quella casa verde lì, forse vi do la copertura migliore, sai? Oh, ma, demoni, devi saltar... Niente! Ah, no. No, scusa, scusa, scusa. Era morf. Eh, però non ho sparato. È qui dietro, lui, eh? Gliucchera. Allora, ragazzi, ditemi dove siete voi tre, perché... Io l'ho sentito da sinistro. Eh... Vado in casa verde, ragazzi. Sono io nella casa verde. Sì, se non sono partiti gli zoom, vuol dire che non sono qui, sono più lontani. Dici? Eh, ma gli ha sparato Terminus, eh? Eh. Gliucchera, ha sparato adesso Terminus. Ragazzi, ditemi dove siete, sono nella casa verde e vi posso sottare se arriva qualcuno. E siamo qui al fianile. Ok, vieni, 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 dall'altro lato, ragazzi, da dove siamo arrivati. Riesco a distruggere in alto. Ok, vi riesco a vedere. Sottate lì. E non girate troppo intorno, se no, amico. Vai. Uno sopra l'altro. Eh, devi sdraiarti, sdraiati. Uno si sdraia, l'altro gli va sotto accucciato. Gli va sopra accucciato. Uno si sdraia. L'altro gli va sopra accucciato. Accucciati. Uno, due, tre, salta. Eh, un me fa... Uno, due, tre, vai. Vabbè, mettiti in piedi. Uno, due, tre. Ok, dentro. Cazzo, sono che hanno... ...hanno bloccato l'ingresso qua con il port. Sparano a Terminus. Vabbè, sparo dall'altra... ...vado dall'altra parte. Vi serve un Mosin, trovato ora. No. 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 Mosin no. Questo. Sono dietro a casa col piano, eh. Ok. Lo stiamo dentro qua, dentro al centro. E sui sfondarti a qualche parte, Clip? Questo l'hanno bloccato con l'auto. Arrivo da voi. Dentro, no? Giusto. Siamo proprio nell'area del finire, ti vedi? Sì, 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 sì. Visto, visto. Io vi sto coprendo un lato strada, eh. Ah, no, hanno bloccato con l'idea. Niente, eh. Cazzo, devo sloggare e rilogare, ragazzo. Perché? Perché mi sono bloccati i commenti, non va più il tab, non va più... Eh... Dove a fare exit e poi dopo orpiglia? Perché che devo fare? Eh, TC e D per exit? No, no, eh. Ah, se io... No. No, no. Ma che io buco il barile. Comunque è giocata la mattina alla sera, eh, ne? Madonna, ma che... Stamattina ero collegato con il suo amico. Luca, era mai questo qua che spara per me, non sai? Ma ce l'abbiamo vicino, voi? Secondo mai qua, in qualche bosco, eh? Eh, sì, sì, no. È un bosco subito a nord. L'ignore per andare a pigliare. Senti, senti, è la mia spalla. E quindi dietro la casa dove sono io. Hanno sparato? Sì, hanno sparato, ma penso sia terminus. Ok. Dovete farmi il coso qua davanti. Non riesco a farlo da là. Dovete farmi la spoletta come mi avete fatto prima. Uno sdraiato. No, 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 uno sdraiato. Uno ci va sopra cucciato. No, aspetta. Girati da questa parte, tu sdraiato. L'avete trovato, clear? Sì. Sì, è qui, è qui, è qui, è qui. Si apre? Stiamo provando. Aspetta, clear, che mi metto qua? No, se avete bisogno fateci un fischio. In piedi, GB. Metteteli in piedi. Boh, lì quanto? Se avete bisogno fateci un fischio poi, eh. Uno, due, tre, salta. Ma perché se... Aspetta. Ti c'è il tetto. Uno, due, tre, vai. Sei salta, mettiti in piedi. Quanto hai in piedi io? C'è la falsa lì sopra di me? Stiamo a guarda. Ah, no, 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 giusto. Accucciati, accucciati tu. Boh, perfetto. L'altro sdraiato, gli va sopra. L'altro... No. Togliti da Fioro, togliti da Fioro. Fioro, accucciati. Perfetto, vai lì sopra. Io, raga, non riesco a coprirvi, eh. Accucciati. Fuori completamente dal... Ok. Vai. Vai, via. Perimetro. Accendo. Non riesco a coprire da dire... T'ho visto, sono in strada. In strada, no? Sì, sì, sono in strada. Vai. Tolgo il cancello. Vai. E poi questo gli portiamo via la macchina. Sì, esatto. Riempigliare di tutte le cose. Vediamo che lo c'è. Barile. Tutto materiale a costruzione. Sì, sì. Tutto materiale. Registra, registra. Che non ci diamo dei cittoni, idiota. Soldi. Un po' di merda, c'è. Un po' di pesce per la macchina. Qui c'è. Un PKP. Ci sono altri soldi. Dove hai tutti i soldi? La macchina la svuota, eh? Sì, li mettiamo dentro le nostre roba. Ci sono le ghilli. Un po' di Vinterest. Vai vai, ruba tutto. Ruba tutto. C'è uno scar. Ok, sta roba qua l'ho avuta per terra, dietro. Accucciati. Ma sai che sembra che spari in realtà dalla Casa Verde? No, la Casa Verde c'ero io. Chi è che ha caricato? Io. Sono... Ancora la Handela, eh, ragazzi. Eh, la Handela... Eh, non c'è, ce l'hanno allora. Ah, ok. Ah, no, eccola, eccola, trova. Facciamo presto? Ok. Eh, ripartiamo via tende? Tutto, tutto, ti ha lì tutto. Fai vedere? Ok, c'hai il piano, eh? Io l'inventario è mezzo vuoto, ancora. E dobbiamo anche muoversi. Eh, già. Prima che torni, no? Parlando, se vuoi qualcuno? No. Vedete quel barile? Andiamoci. Allora, direzione. Perché non mi fa vedere? GB, come hai detto che devo fare per la mappa? Ho impostato il punto. Eh, beh. Ok, per vedere il punto che ho impostato io. Eh, in basso a sinistra, c'ho 3D. E allora? Vai. C'ho il static mark. Andate, 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 andate. Io faccio copertura da dentro. Ma la macchina ne la prendiamo o no? Sì, sì. E' buono. Dove? Entra. Entratto. E' in macchina voi? Vai, vai, andate, andate, andate. No, scusa. Vai, vai, andate. No, scusa. Novi. E' detto che io qua non ci passavo. Vai, 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 ci sei? Scappa Fiora. No, no, rimango solo a watchtower, io. Ma ne sto andando io, eh. Allontanai. Non so se ci passi di lì, eh, GB. No, 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 non ho un bel giro. Ma la ragazzi non avete copertura. Devo staccare. Va bene, va bene, vai, starca, starca. Ne sto andando. Devi andare di strada, devi andare di... Non lo so, sbagliato. No, 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 no Un po', vieni Deloce e pulito Io sono alla fioranaio vicino Vieni anche te, Fior Sto venendo via I've always liked to play I've always liked to play